Lei è il nuovo assessore all'attività agricola, non è solo un'attività solo agricola, di mezzo ci sono molti altri ricambi. Sì, è una persona di agricoltura, ringrazio il Presidente Zaia per averci dato, per avermi dato questa opportunità, credo che c'è molto da lavorare, adesso in questi prossimi giorni andrò a incontrare soprattutto la struttura regionale, andrò a vedere a che punto è rimasta e per poi naturalmente incontrare tutte le categorie economiche che sono attorno a questo mondo. La sua lunga esperienza di sindaco, di cittadina, non si può morire in più rispetto a dalle che non sono mai stati sindaci. Quando si fa il sindaco naturalmente si hanno a ramarsi in più perché si conoscono già i problemi nel momento stesso in cui bisogna risolvere, quindi si conoscono i meccanismi nel comune ma che possono essere riportati e anche nei meccanismi. Grazie. 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 Grazie.